Quali sono i lavori che state portando avanti a Villa Gimelli? Allora, noi stiamo portando avanti un mini ampliamento che ci permetterà, ormai a breve, di poter utilizzare degli spazi nuovi residenziali, perché la richiesta della residenzialità in particolare è molto sentita, è molto necessaria, perché le nostre famiglie invecchiano i nostri ragazzi e pertanto i 18 posti che attualmente abbiamo non sono più sufficienti. Quanti posti in più? Al minimo due, perché abbiamo fatto una camera a norma come metrattura, logicamente, per due persone, ma poi abbiamo anche a fianco un mini aloggio che vedremo come utilizzarlo al meglio. Villa Gimelli migliora anche la comunicazione, avete inaugurato il nuovo sito? Sì, col contributo offerto tra l'altro da IB di Massimo Ricci, la società informatica di Rappallo, che è anche nostro socio peraltro, noi abbiamo rinnovato completamente il nostro sito che affianchiamo al nostro quadrimestrale penisola. 60 anni fa com'era la situazione della disabilità quando nasceva Anfas? 60 anni fa veramente non c'era niente per le nostre famiglie e per le nostre persone, per i nostri ragazzi, come comunemente li chiamiamo. Infatti Anfas è nata con Sottoscala, dalla Menegotto, che è la nostra fondatrice, con un gruppo di famiglie, ma i ragazzi erano chiusi in casa, non frequentavano la scuola, non li volevano. Dopo 60 anni quanti passi avanti sono stati fatti? È stato fatto un bel cammino, è stato fatto un bel cammino che non ci deve fermare ma deve essere un punto di partenza, perché oggi i ragazzi sono inseriti a scuola, sono inseriti nella società, abbiamo lavorato specie negli ultimi anni sull'autodeterminazione, sull'autonomia delle persone, sull'inclusione sociale. Si vedono i risultati, i ragazzi escono, partecipano, vivono, che sono persone come noi, devono essere persone come noi e devono fare la vita come noi.